La regina Elisabetta II ha celebrato la giornata mondiale della fotografia condividendo tre immagini, tra cui uno scatto di Balmoral, mentre Kate e il principe William hanno condiviso le immagini del loro concorso Old Steel. L-Account della famiglia reale ha condiviso tre fotografie di ritorno al passato che mostrano alcuni momenti in cui la regina è stata raffigurata dietro l'obiettivo per celebrare l'occasione. Un'immagine mostra al principe Carlo e alla principessa Anna come usare una macchina fotografica dalla regina, scattata a Balmoral nel 1952. Molti affermano che l'immagine è significativamente commovente poiché attualmente la regina e gli altri membri della famiglia reale sono a Balmoral in mezzo a colloqui di crisi legati allo scandalo del principe Andrea. La seconda immagine mostrava il capo di stato dietro una fotocamera compatta gialla durante una visita alle isole di Tuvalu, nei mari del sud nel 1982, e mostrava il monarca con il defunto duca di Edimburgo al suo fianco. Il terzo che mostra la regina in posa con la stessa macchina fotografica proviene da Lindsay Park Stad nel South Australia. Ed è stato scattato nel 1977. Il post dall'Account della famiglia reale arriva mentre Kate, la duchessa di Cambridge e il principe William hanno celebrato l'occasione riconoscendo alcuni dei fotografi più giovani della Gran Bretagna. La duchessa è un'appassionata fotografa dilettante e condivide spesso le immagini che ha scattato ai suoi figli per celebrare i loro compleanni o occasioni come la loro partecipazione al Big Butterfly Count all'inizio di questo mese. In un post su Twitter, il duca e la duchessa di Cambridge hanno twittato per celebrare la giornata nazionale dicendo. La fotografia ha un'incredibile capacità di creare una registrazione duratura di ciò che tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Ecco perché in questo cancelletto World Photography Day abbiamo voluto celebrare i giovani del progetto fotografico cancelletto Old Steel 2020 e condividere le immagini dei finalisti più giovani. L'hashtag cancelletto Old Steel 2020 si riferisce a un'iniziativa fotografica coniata dalla coppia durante il lockdown, in cui hanno chiesto al pubblico di catturare immagini che riflettono la pandemia di Covid-19 da utilizzare in una mostra digitale.